Buongiorno, sono Romana. Produzione televisiva in Roma? Sì, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo dalla Sicilia. Sì. C'è produzione, io penso questo numero nell'elenco di Roma, siccome per ora mi trovo a lavorare qua a Roma. Ma voi c'è catattore? Ma non proprio, noi ogni tanto facciamo dei casting e quindi in base a determinate traduzioni vengono richieste magari determinate figure. Lei ha un book, qualche fotografia, qualcosa che eventualmente può inviare? Ma io posso mandare foto se è possibile. Sì, sì, può anche farlo. Però al momento non abbiamo traduzioni che ci occorrono personaggi, è capace di rimanere tra qualche tempo, sì, però al momento no. E noi facciamo prettamente pubblicità. Ah, ho capito. Non facciamo fiction, telefilm o cose di questo genere. Solo esclusivamente pubblicità. Ho capito. Qualche produzione film e porno? No. No, siccome io sono un attore porno, mi chiamano Cicino e Cavallo. Oh, ho capito, no, mi piace. Eh, prego, eh, arrivederci. Sì.